E' sempre Rodriguez, ancora Rodriguez segna il traversale, possibilità per Son, quindi Shakiri, la conclusione di Shakiri, segna il vantaggio, chi segna? Segna proprio lui, segna Giardano e Shakiri e andiamo sull'1-0, Tony meglio di così, meglio di così, che cosa vuoi? No, io sto bene così. Vai in accelerazione Shakiri, sempre Shakiri, il passaggio verso Son, è libero Wittmer, vediamo che cosa succede, parte il traversale, ballo, è sempre il gol! Il pareggio, la parte della Svizzera, il 2-2 lo firma in Bolo, azione anche questa da incorniciare, Tony, azione meraviglia! E andiamo sull'2-2, che partita, ricca di emozioni, sta succedendo di tutto di più, è un calderone ribollente, calderone ribollente questo stadio! Ma come faccio a calmarmi? Come faccio? Come faccio a calmarmi? Scusa nei confronti dei compagni, cioè, ma io lo sto male, Stoicovici sta peggio di me, è nel 65 Stoicovici, ha qualche anno meno di me! Vediamo che cosa si inventa Shakiri, si accetta Shakiri, balla palla, balla il gol! E la reteniremo fuori, che azione! Azione meraviglia! Sembra un nuovo il prosile, quasi quasi, e ticca e tucca e tocca! Cosa abbiamo combinato, Tony? Guarda, sai cos'è che vi rende felice? Sì, che ha segnato fallo! Ed è certo! Guarda, veramente, perché dopo i due errori che ha commesso, qui un'azione stupenda, ma veramente un'azione incredibile!